Un 61enne barese incensurato da 5 anni addetto ai servizi alle dipendenze della Pontificia Basilica di San Nicola è stato sorpreso mentre rubava denaro lasciato dai fedeli e dai pellegrini nelle cassette delle offerte all'interno dell'area presbiterale della cripta di San Nicola ed è stato arrestato durante il suo turno di lavoro Nicola Losseto approfittando nel primo pomeriggio di giovedì 15 novembre della giornata piovosa e della scarsa presenza in Basilica dei fedeli dopo aver aperto con le chiavi il cancello posto a protezione della tomba del santo patrono di Bari ha introdotto nelle cassette delle offerte un cavo d'acciaio alla cui estremità c'era una calamite con cui asportava il denaro in totale 40 euro tra spiccioli e banconote non immaginava però che tra i pochi fedeli presenti vi fosse un carabiniere in preghiera che avendo visto quello che stava facendo lo ha bloccato e ha chiamato il 112 facendo arrivare una gazzella del nucleo radiomobile che ha preso in consegna il custode all'attrezzatura per il furto Losseto è stato messo agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato dal tribunale di Bari